La mia unica colpa è stata quella di avergli creduto, ma non ho mai coperto i suoi atti di pedofilia. Così l'arcivescovo di Lione, Philippe Barbarin, si è difeso al processo nella città francese, nell'ambito degli inchiesti sugli abusi commessi da padre Bernard Prenat su decine di giovani scout prima del 1991. Il prete accusato di pedofilia verrà giudicato nel corso di un altro procedimento, la cui prima udienza dovrebbe tenersi quest'anno. Ma intanto è partito il filone parallelo, quello sull'omissione di soccorso, che vede sul banco degli imputati il cardinale Barbarin e altri cinque religiosi della diocesi di Lione, a portarli davanti al giudice nove persone che rimproverano loro di aver lasciato il prete a contatto con i minori fino al 2015. Pierre Manuel, che ha raccontato di essere finito nella rete del pedofilo, dice padre Prenat stesso aveva informato Barbarin di quello che aveva fatto a dei bambini, ma siccome gli aveva detto che non si era più ripetuto, il cardinale lo aveva addirittura promosso qualche anno più tardi. Penso prima di tutto alle vittime, a quelle che non sono qui, che non possono parlare, e penso che perlomeno alla fine sapremo la verità su questo sistema omertoso, afferma Alexandre. Fu lui che nel luglio del 2014 parlò a Barbarin degli abusi che aveva subito negli anni Ottanta. Il cardinale aveva quindi convocato Prenat, che aveva ammesso i fatti, giurando che non si erano più ripetuti. Davanti ai giornalisti, il suo avvocato, André Soulier, ha sottolineato come Barbarin si sia preso le sue responsabilità, venendo in tribunale e rispondendo alle accuse. Il cardinale ha raccontato di aver invitato Alexandre a scrivere una lettera di denuncia, poi trasmessa in Vaticano, ma lì la procedura si era fermata. In attesa della decisione di Roma, non mi sono rivolto alla giustizia perché i fatti erano ormai prescritti, si è difeso l'arcivescovo. Gli imputati rischiano fino a tre anni di prigione e 45.000 euro di multa. Il processo, iniziato lunedì, andrà avanti fino a mercoledì. Grazie. Grazie.